Il loro distretto è l'autostrada, i loro nemici ricattatori, assassini, pirati della strada. La notte non esiste per gli uomini di Cobra 11, la nostra sicurezza è il loro mestiere. La notte non esiste per gli uomini di Cobra 11, la nostra sicurezza è il loro mestiere. La notte non esiste per gli uomini di Cobra 11, la nostra sicurezza è il loro mestiere. La notte non esiste per gli uomini di Cobra 11, la nostra sicurezza è il loro mestiere. La notte non esiste per gli uomini di Cobra 11, la nostra sicurezza è il loro mestiere. La notte non esiste per gli uomini di Cobra 11, la nostra sicurezza è il loro mestiere. La notte non esiste per gli uomini di Cobra 11, la nostra sicurezza è il loro mestiere. La notte non esiste per gli uomini di Cobra 11, la nostra sicurezza è il loro mestiere. La notte non esiste per gli uomini di Cobra 11, la nostra sicurezza è il loro mestiere. La notte non esiste per gli uomini di Cobra 11, la nostra sicurezza è il loro mestiere. La notte non esiste per gli uomini di Cobra 11, la nostra sicurezza è il loro mestiere. La notte non esiste per gli uomini di Cobra 11, la nostra sicurezza è il loro mestiere. La notte non esiste per gli uomini di Cobra 11, la nostra sicurezza è il loro mestiere. La notte non esiste per gli uomini di Cobra 11, la nostra sicurezza è il loro mestiere. La notte non esiste per gli uomini di Cobra 11, la nostra sicurezza è il loro mestiere. Grazie a tutti.